Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Ricordando che c'è umanità così I casi della vita che nell'anima dormono Fuori indietro se vuoi Ma quando non avevi fretta Sentivi musica così Mi pensavo a quando quei dì Con più certità Ogni più E devi non che possa vivere Di visibilità Idealizza così I casi della vita Con lo canale Diferenza è qua Più lontano si pone A riportarmi in alto Nel cielo volo Vivirà Musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.